ci siamo ci siamo siamo a rimini siamo in fiera oggi è mercoledì giorno zero perché quest'anno bloomwell ha il suo stand e noi stiamo entrando per gli ultimi tocchini dettagli quindi vedremo per la prima volta lo stagio ma voi l'avete mai visto il riminiwell è svuoto siamo solo noi e tutti gli altri allestitori oddio è coperto è coperto è coperto va bene io vado di qua oh mio dio è stupendo oh mio dio ok siamo pronti wow ciao ci sono wow è meraviglioso wow guarda qua che bello l'interno della piattaforma stupendo wow bravo sono molto soddisfatto anch'io il tu Jimmy ragazzi voi lo conoscete lui che dice di essere soddisfatto bello 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 wow pronti per le preparazioni come va la passeggiata leggerissimo nel suo nel suo essere leggero e pesante è sì dopo un po' are you ready vai aspetta oh bello sembra molto anche perché la cosa che mi piaceva è che non stai stravattato si può fare noi andiamo alle cuffie durante la giornata ci si può sedere non sembra che sei bello ci siamo appena accorti non so se l'avevo già detto prima comunque ci siamo appena accorte che non ci hanno stampato un più quindi c'è sempre ragazzi del disagio in tutto ciò che facciamo quindi il più ce lo facciamo noi perché noi abbiamo più di 200 video non solo 200 e vogliamo ci impegniamo che sia chiaro perché più di 200 video editati devono essere saputi guarda che bello per allestire disallestire noi siamo arrivati un giorno prima andremo via un giorno dopo e per questa sera e l'ultima sera ho preso degli hotel perché saremo soltanto io Jimmy e Vale invece domani fino a domenica arriverà tutto il team di Bloomwell e per quello ho preso un appartamento felicissimo non vedo l'ora e questo hotel è bellissimo perché c'è questo terrazzo vista mare bellissimo siamo un pochino fuori i mirimini e invece la domani in appartamento e sono troppo felice mi sembra quasi ritornare a quando si facevano le vacanze in appartamento con tutti gli amici sono pronti per andare a cena andiamo a mangiare in un posto che ci ha detto ragazzi io faccio solo pesce noi abbiamo detto sì sì lo voglio ciao ciao team meraviglia sono salita sopra cosa del bagnino maria bagnino siamo tornati da walli stesso ristorante dell'anno scorso oggi mi ha detto dobbiamo tornare sembra una sicurezza sembra una sicurezza lo è direi che lo è guarda quante vongole che meraviglia mai visto così tanto buongiorno primo giorno di fiera giovedì ora è 9.30 non sono mai stata a Rimini Wellness così presto di tempo e di giorno non ho mai fatto un giovedì quindi vediamo come va il nostro stand è pronto definitivo guardate che meraviglia bandiera e puff bellissimi questi puff il nostro stand e poi da davanti così così e poi qui una serpresina wow prepara tutto io tutto io direttamente dal letto direttamente dal letto questa sera per sono arrivate tutte le coach di di Bloomwell hola 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 Jimmy beato per le donne io ci ho perso la voce tutto bene e abbiamo un appartamento e qui c'è c'è del lavoro che sta su io morta sul letto io morta sul letto hanno preparato tutto loro bello bello Jimmy poi te lo dice che manca il suo pane questo arriva arriva buongiorno sono stacca non ci sono le tende sono svegliata alle 6 così e io senza il buio non riesco a dormire comunque frigo pieno la palla ha fatto la spesa io ho fatto l'interno di sera ho cotta niente ora siamo tutte svegliando e vi faccio vedere che meraviglia perché ieri era buio questa ora io sono in colazione in the making colazione smalti perché devo fare le unche case vabbè e maglietta appese questo asciuga che bello oh ciao mare wow buongiorno arrivati in fiera carichissime ore 10 il nostro stand è già pieno oggi abbiamo le coach di bloomwell che si alterneranno con delle attività iniziamo con la face gym e infatti qua si stanno ben massaggiando e sculpting their face e tutti vogliono provarlo e no ma ti sposi no ma oggi così ieri no scusa ma ieri non ti sposavi io non se lo aspettavo non lo so io sei venuta qua che mi fatti pieno e che è arrivato non capiamo quanto la nostra testa influisca sulla percezione che abbiamo del nostro corpo cioè noi pensiamo che per cambiare il nostro corpo dobbiamo soltanto allenarci e mangiare sano ma se noi possiamo lavorare veramente sulla nostra mente e miglioriamo la nostra autostima poi di come il nostro corpo appare allo specchio ci interesserà sempre di meno perché proverai tu ti valuterai per come sei dentro perché quello ha molto più valore rispetto a o alle gambe in un determinato modo l'addominali in vista o che cosa cercano non so più io le gambe snelle e il culo e il sedere alto ma scusate io sono bastata quindi è tu che ti evolvi e abbracciare l'evoluzione penso che sia un regalo più bello che possiamo farci quindi Bloomwell è in piena espressione abbiamo Melissa con un gioco di Mindful Eating ecco e Ivana porterà loro in verticale Rimini day 2 andato ragazzi morti se io vi dico che sono le 7.32 e non ho pranzato la differenza fra il giovedì e il venerdì la differenza fra il giovedì e il venerdì io non so cosa mangio stasera ma tipo 8 pizze e soprattutto ragazzi siamo in partenza per il matrimonio per la Puglia tra 5 ore dobbiamo partire perché abbiamo l'aero alle 7 e ogni volta mi dicono Sì ma ma ci sei domani? faccio no vadi in Puglia ah ok allora non ci sei più no no ci sono domenica perché torniamo domenica tranquilli non ci facciamo mancare niente no assolutamente cavolo quindi niente quindi ora torniamo a casa io ragazzi io il mio livello di disagio mi domanda hai preso i vestiti del matrimonio? certo appunto vedete ah ok praticamente la mia gente mi ha portato il vestito del matrimonio oggi e ho una scelta fra tre e quindi se tre non entrano se tre non entrano è la fine vabbè siamo sul mare vieni in costruzione arrivo provo un vestito e vediamo speriamo che mi vada bene dopo lo vediamo insieme no dai prima di provarlo mi devo fare una doccia perché io non lo so ma tornare a casa dopo una giornata io tipo apro uno yogurt guarda giù ovvio ma via il mio rimini non finisce qui allora proviamo i vestiti è un reggiseno calcolo al carne allora primo vestito bellissimo bellissimo lo proviamo iniziamo male a tratti malissimo molto stretto qua e no questo è bello questo è bello guarda questo eeeh ragazzi buongiorno buongiorno com'è buongiorno io sono sveglio guidato se siamo qui è perché santo jimmy io ho cercato di fare il compagno ho la testa così buongiorno 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 e proprio si soffere poi il reggiseno comincia a parlare del nulla coso pur di cercare ho trovato un sacco di parole la persona che più parla alle 5 del mattino alle 4 del mattino pronti vai si vola in Puglia buongiorno che meraviglia di cosa stiamo parlando wow da sogno da sogno tutto anche di là pazzi sempre della serie quando in cui puoia addio torre di pasticciotti adoro fondamentale sinceramente non so come ma siamo qui in fiera stiamo per entrare ore 9 siamo carichi anche se non sentiamo la stanchezza un'ora di sonno da un'ora quella dormita in aereo io mi schiacciavo la faccia in ogni modo e niente stiamo per entrare ultimo giorno abbiamo fatto la nostra dirox a modo nostro carichi a dare il massimo let's go ok si questa è veramente la adrenalina piene in after ne riparliamo stasera alle 7 alle 7 rotoliamo fuori dalla fiera vedete che si deve in verticale si con il tram le gambe mi raccomando non reggiamo il compagno possiamo iniziare a salire leggermente con la gamba dietro abbiamo il compagno che ci dà una mano non saliamo eccessivamente il compagno che mi fa la squat mi aiuta a restare lì e io torno provate 2-3 volte poi vi date il cambio ok ora e cinque un quarto io sono ancora viva sono carichissima la fiera è praticamente finita strabaccata ragazzi il nostro muro è meraviglioso guardate che bello che bello ovviamente ragazzi anche il chapeau a jimmy che si è fatto anche lui un'ora come me tiene duro vista battipugnetto questa è ufficialmente la fine del nostro primo e non ultimo lo promettiamo rimini wellness stiamo facendo le ultime clip le ultime cose finalmente l'abbiamo firmato anche noi questo wall io ancora non c'era arrivata siamo veramente contentissima siamo super super soddisfatti sono super soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto è stato meraviglioso le ragazze le cose sono state pazzesche vale ora è impegnata nella sua dedica è stata pazzesca ieri gestire il tutto bravissimo vale grande brave noi brave le nostre coach troppo troppo felice e niente in realtà noi dobbiamo salutare il nostro stand perché ora piano piano lo verranno a sciogliere disallestire e è stato bellissimo bellissimo siamo veramente super super soddisfatti di aver potuto raccontare bloomwell a tutti veramente spero che questo video vi sia piaciuto spero che di essere un pochino l'uscita in questo blog in questi giorni pazzi di essere riuscita di essere riuscita a coinvolgervi e a raccontarvi un pochino tutto sono morta ancora un'ora di adegno fiesta esatto sì perché più io c'era dopo quattro giorni a rimini dove ogni sera no io dicevo dobbiamo andare a letto presto perché domani nella fiera stasera voglio godermela abbiamo più o meno anche tolto tantissima roba quindi non dobbiamo essere qui troppo presto domani insomma è finita e siamo veramente veramente felici io vi saluto vi abbraccio e ciao ciao due due tre vai devono arrivare non urlare ando ancora e dai e corri va vai 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 ok adesso no no 10 secondi vai vai che stronzo ma perché ci sono trovi? mettetevi eh lo so però un effettivamente a 10 vai e beh e beh che fai non vai dalla Lella non vai dalla Lella per cena Lella 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 lella